Amati in sette giorni. Ci sono degli esercizi che possiamo fare un giorno alla settimana per eliminare pensieri negativi e mettere in atto dei comportamenti positivi. Per amare noi stessi dobbiamo creare delle emozioni positive, imparare a dare alla nostra parte emotiva delle emozioni positive. E ad esempio possiamo fare degli esercizi. Prendere l'impegno, ad esempio lunedì, non fare nulla che non vuoi fare. Datti l'impegno e lunedì cerca di fare soltanto le cose che ti va di fare. Questo è molto interessante perché dà un improvement energetico emotivo positivo alla tua parte emotiva che migliorerà sicuramente l'allineamento con quella logica. Il martedì fatti una coccola, fatti un piccolo regalino, donati un'emozione positiva, un regalo, qualcosa che ti va di fare, conceditelo il martedì. Il mercoledì invece dai spazio a una tua passione. Spesso siamo presi dalla frenesia della quotidianità. Ci si dimentica quanto sia bello coltivare le passioni, stimolarle. Quindi dai spazio a una tua passione. Fai qualcosa che ti piace davvero. Il giovedì, esercizio interessante, scrivi una lettera d'amore a te stesso. Cioè scrivi delle cose a te stesse come se fossi veramente la persona è un esercizio che insegna la sfera emotiva ad amarti davvero. Il venerdì invece scrivi qualcosa per cui sei grato o di qualcosa. Quindi tieni un diario, insomma. Il venerdì esprime la gratitudine perché noi spesso ci focalizziamo su ciò che non abbiamo anziché su ciò che abbiamo e quindi invece cerchiamo di essere grati per quello che abbiamo. Il sabato celebra a te stesso. Concediti uno spazio per fare, diciamo, solo per te stesso. Per una meditazione stacca il telefono, stacca tutto. Un'ora in cui non devi avere pensieri esterni. È molto importante questo. E la domenica fai una promessa a te stesso di quello che farai la prossima settimana. Quindi per migliorarti, per... fai una promessa su quello che potrai fare la settimana successiva. E così di settimana in settimana il tuo amore crescerà sempre di più per te stesso. Seguimi su Instagram, Massimo Tremasco Ufficiale, su TikTok, su tutti i make-up.